Gentili telespettatori, benvenuti, come si diceva la scorsa settimana, all'ultimo appuntamento della stagione 2014-2015 che la redazione Ecografi porta avanti in collaborazione con Quarta Rete e con le produzioni di Antropos, Bene Italia e di questa rubrica Focus che è a mia cura. La scorsa settimana ci siamo lasciati con una importante novità che era quella del fatto che in Italia si dovrebbe finalmente arrivare alla scelta di quello che è il deposito delle scorie radioattive per il quale l'ISPRA e i ministeri competenti dell'ambiente e dello sviluppo dovranno in qualche modo scegliere la località. Ma oggi vogliamo parlare di un nuovo allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi tutti sappiamo del buon esito che ha avuto anche il secondo paziente italiano contagiato dal virus di Ebola ma come recentemente è stato ricordato proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non dobbiamo abbassare la guardia perché purtroppo i virus, in questo caso stiamo parlando di un coronavirus che sono virus tipici per esempio del nostro raffreddore però hanno subito delle modifiche questi virus e si diceva appunto non bisogna abbassare la guardia perché periodicamente si possono riproporre. Così probabilmente è accaduto per Ebola che già avevamo avuto modo di conoscere e oggi stiamo parlando di MERS cioè un acronimo che sta per Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus che è una patologia che è stata studiata una sindrome respiratoria medio orientale dovuta appunto ad un coronavirus molto simile a quello della SARS che già molta paura e molta allarme aveva destato alcuni anni or sono. Questa malattia, la MERS appunto ha già mietuto alcune vittime, per esempio 16 persone in Corea del Sud solo negli ultimi giorni. Sono morte 5 persone, si stima che alcune persone contagiate, almeno 150 ce ne siano anche altri centinaia che sono state isolate perché potrebbero essere portatrici di questa malattia. Alcuni ospedali di Seoul dove sono stati riscontrati i casi di MERS sono stati attivati per ricoverare questi pazienti. Alcune strutture sanitarie del governo sudcoreano sono stati invece criticati perché secondo alcune osservazioni si è proceduto troppo tardivamente nell'isolamento e nel riconoscimento di questi pazienti. MERS è stata identificata nel 2012 da un virologo egiziano Ali Mohamed Zaki e a Jeddah in Arabia Saudita analizzando campioni di saliva e di un malato, un malato di polmonite. Il ricercatore notò la presenza di questi coronavirus mutati, quindi diversi da quelli tradizionali. Poi ne fu identificato un secondo caso nel 2012 su un paziente in Qatar. Abbiamo anche avuto tre casi in Toscana e in Italia tutti perfettamente guariti, tutti perfettamente a posto. I sintomi sono evidentemente quelli di una forma di raffreddore e di influenza particolarmente violenta ma necessariamente non esistendo né un vaccino né una terapia specifica la vera prevenzione è data da una profilassi, da un isolamento, dalla cura della sintomatologia, quindi della tosse, della febbre e dei dolori muscolari che si possono verificare o dalla somministrazione di interferoni. C'è però una raccomandazione e pregherei la regia di soffermarsi poi su questa immagine del come lavarsi attentamente le mani con il sapone. Ecco, sembra una stupida raccomandazione ma in realtà noi sappiamo che poche persone sanno esattamente come si devono lavare le mani con il sapone. In questa immagine che voi vedete ci sono tutte le tappe precise, la trovate facilmente sul sito della OMS per far vedere come le mani si devono lavare fra le dita, la parte palmare, la parte dorsale, strofinando bene. Questo vale per ebola, questo vale per qualunque forma infettiva e a maggior ragione per MERS. Dunque termina qui, come si diceva, quest'ultima puntata di Focus. Noi speriamo di poterci rivedere quest'autunno per una nuova stagione, speriamo con tante novità e molte cose nuove. Naturalmente io voglio ringraziare tutta la troupe che ci ha seguito, che ci ha aiutato in questa stagione, in particolare gli amici della redazione di Ecografiche. Tutte le settimane sono pazientemente venuti a sostenerci, ad aiutarci, a darci le informazioni, a darci i tempi e ringrazio l'amico Franco Finiguerra che pazientemente ha sopportato tutti i nostri cambi di programmi dell'ultima ora, però assolutamente non voluti. Quindi appuntamento speriamo a quest'autunno e a tutti voi una buona serata e una buona estate. Arrivederci.